Finalmente si ricomincia a giocare, domenica abbiamo un'importante sfida in quel di Picerno e noi, come hai già detto tu, sono settimane che non ci siamo mai fermati però da questa settimana si inizia a sentire la partita domenicale quindi è cambiata un po' la preparazione della settimana e con l'alleamento di domani e sabato concluderemo la settimana che ci porterà dunque proprio alla partita di domenica Cercheremo di dare continuità a questi risultati che ci danno conferma del buon lavoro che stiamo facendo, quindi siamo convinti di poter far bene e scenderemo in campo proprio per ottenere un altro risultato positivo per dare seguito alla striscia positiva di risultati prima dello stop Sappiamo che è una partita molto sentita per la città quindi noi scenderemo in campo dando tutti noi stessi per portare a casa un risultato con maggior ragione però perché la città sentirà molto questa partita Per fortuna attualmente mi sono messo alle spalle un periodo un po' nuovo legato a dei problemi fisici quindi sono due settimane che mi alleno a pieno regime con la squadra e quindi sono provato già da domenica a dare di nuovo il mio contributo alla squadra Per piazze come Cerignola secondo me l'assenza del tifo, del dodicesimo uomo in campo si fa sentire perché piazze calde così danno veramente sostegno e supporto alla squadra della domenica ma anche in ogni singolo allenamento fanno sentire la loro presenza